Con il cuore pieno di gioia e tante emozioni si è conclusa la terza edizione del Festival delle Fiabbe di Città di Locri. Un'edizione riservata al mondo del piccolo principe all'interno della programmazione del progetto Raccontiamoci diversi di Ossilandia APS finanziato nell'ambito territoriale di Locri a sostegno dei progetti di inclusione sociale rivolti a minori e famiglie promossi da soggetti del terzo settore. Raccontiamoci diversi ha avuto come live motive il concetto del dialogo e il rispetto dell'altro tutto ciò espresso grazie al festival, ai laboratori, alle attività e ai percorsi avviati con specialisti alle azioni contro la dispersione scolastica, il rafforzamento e il potenziamento della lingua italiana per stranieri e rancori laboratori di burattini e manualità con lo spettacolo finale terra di Angelo Gallo del teatro della Libellula andato in scena il 25 marzo e che ha coinvolto centinaia di bambini delle scuole elementari. E la referente del progetto di Ossilandia Stefania Caracciolo che durante le attività finali a Palazzo della Cultura ha detto con Raccontiamoci diversi il concetto importante è stato quello di riprendere il dialogo con noi stessi e con le nostre emozioni. E la tre giorni del festival delle fiabbe ha messo in evidenza proprio l'altro grazie al lavoro di Antonella Iaschi che ha coordinato le fasi dei laboratori e degli incontri e la collaborazione dei girasoli della Locride guidati dalla Presidente Immacercosta e il prezioso supporto dell'ideatore del carro Misei Caro del piccolo principe Paolo Campolo aiutato dal volontario Francesco Calveri e dai genitori dei ragazzi. Visita alla Fondazione Zappia del garante dei disabili Ernesto Sicleri che ha conosciuto la realtà Locridea e avviato un confronto con l'amministrazione locrese. Spazio agli incontri della Biblioteca Comunale Incorpora con le scuole materne e le primarie dell'Istituto di Amici Semaresca con Daniela Bertini, l'attrice della Bici delle Storie che ha presentato il libro della collana a Maria Neve e la scuola degli Elfi. E poi riflessione e divertimento con la fiabba al Camisha Bay, il leone ciccione della collana un mondo di fiabbe e poi per i ragazzi delle scuole superiori l'incontro con l'autrice Gemma Massoni con fiabbe di due vite, narrazioni per riflettere sull'importanza di continuare ad amare la vita e credere nei sogni qualsiasi cosa accada. Concuso in inglanda la presenza dell'assessore alle politiche sociali del comune di Locri. Domenica Bumbaca, il 24 marzo con Il Piccolo Principe dove la banda dei lettori dei girasoli della Locride, Rossella Scherle, Daniela Bertini e Gemma Messoni hanno dato voce a una meravigliosa fiabba per grandi e piccini animando i messaggi del Piccolo Principe.